ciao a tutti sono filippo frigo ho vent'anni e frequento il titolo crezio caro di cittadella se dovessi descrivermi in tre parole direi cacchessico e rubiscente e facondio ma soprattutto cacchessico e niente ci vediamo a verona io in realtà non ci sono però ci saranno la mia mamma il mio papà